Eccellenza, da lunedì riaprono le chiese dopo oltre due mesi. Molto contenti di questa cosa, naturalmente rispettando le regole che ci sono state date e soprattutto pensando a una buona igienizzazione e in alcuni casi anche sanificazione degli ambienti. Certamente il numero delle persone sarà contingentato, ma se sarà necessario cercheremo di aumentare anche il numero delle celebrazioni di sante messe. Si pensa anche a qualche celebrazione all'aperto, qualora ce ne fosse la possibilità, eccellenza? Qualche parroco sta già predisponendo per fare celebrazione all'aperto, perché le indicazioni del Ministero sono massimo 200 persone in ambienti larghi chiusi e massimo 1000 persone in ambiente aperto. Io, giorni feriali di solito celebrano la mia cappella privata, ma domenica prossima la solennità dell'ascensione celebrerò la prima messa pubblica in cattedrale.